Fare un breve discorso da quando è nato oggi rispetto alla mission, alla governance, cosa sta cambiando? Sì, direi che l'immagine che abbiamo visto con il loro racconto sono esemplificativi di questo processo. Che è molto complesso. Sì, direi che l'esperienza è un'esperienza innovativa anche per la città. Noi siamo abituati a Torino, in Piemonte, a avere un endosman molto prudente, molto subalpino, non dare il segno delle grandi innovazioni che sono nate qui e che hanno promosso qui grandi sviluppi. Il Parco Scientifico e Tecnologico è uno dei primi parchi scientifici italiani che nasce sul modello americano. C'è questa logica di aggregazione di industria di particolari interessi o comunque di sensibilità comune e di mettere insieme quegli aspetti di ricerca, di sviluppo, di capacità in economia di fare delle attività che aiutino il sistema territoriale di promuoversi con delle capacità diciamo così appunto di applicare meccanismi innovativi in sostanza. Ed è stata un'esperienza praticamente positiva la realtà di Torino perché intanto è stata la scintilla che ha permesso una delle più grandi trasformazioni urbane della città. Eh sì, molto importante. Perché giustamente come lei accennava nel suo esordio... C'è un'area industriale della old economy però insomma, i grandi stabilimenti. E' il passaggio tra la old e la new economy, se si può usare un termine che purtroppo in qualche modo ha subito ed è stato come dire oggetto di abusi interpretativi. Perché parlare di new economy ormai con i tempi e con le necessità di velocità di processi innovativi direi che è un termine come dire difficile da utilizzare. Ma però questo aspetto ha un suo significato perché nasce questo sviluppo di quest'area proprio da un elemento di togliere quelle aree industriali che erano così pesantemente inquinanti, così perfettamente, come dire, collocati in un contesto che isolava quella parte della città dal resto del territorio. Passava da Via Livorno, vedeva un lunghissimo muro e non sapeva cosa c'era al di là. Era un non luogo. Storia di una classe sociale che è mutata nel tempo e ha cominciato attraverso la scintilla di Avipar che è stato il primo intervento che ha trasformato poi tutta questa grande aree di... Beh, da cui poi si è sviluppato tutto il concetto appunto della ristrutturazione ambientale della stessa città, tutta la spina dretta. Bravissima, è stato come dire appunto l'avvio proprio di quel processo. L'avvio che poi ha permesso questa grande trasformazione. E non a caso è nata con un processo di costituire, riportare delle aziende in un contesto dove prima c'erano l'industria presa... Quindi farle entrare, inglobarle dentro perché c'è tutto un tessuto... Cioè comunque di caratterizzare quest'area con delle aziende nuove, con delle aziende che avessero tecnologie innovative, che avessero capacità di rappresentare questo processo di cambiamento. Tant'è che ci sono quasi 600 persone che lavorano... Sì, c'è un tessuto industriale di piccole e medie imprese grandissimo. Appunto, e in più c'è questo aspetto... La definizione parco è una definizione di modello così che individua una raccolta di aziende, ma in realtà è anche un parco perché chi abita nelle case che si affacciano sulla nostra area guarda fuori e vede un'area verde. In sostanza questo dicevo all'inizio... Sì, da fuori è la sensazione quella di un parco, è vero? Dal punto di vista di impatto visivo... Questa ambiguità positiva, come dire, rappresenta uno degli elementi innovativi anche rispetto al contesto, perché parliamo del 1996, dal fine degli 90, quindi è stata un'esperienza davvero fortemente innovativa. E il nostro sforzo è quello di mantenere queste caratteristiche innovative, cercando di alimentare questi processi che sono esiziali per le piccole e medie aziende, di avere un partner che li aiuti a fare... Che li sostenga, perché la grande azienda ha il suo centro di ricerca, ha le potenzialità, la forza, la piccola e medie aziende deve trovare un partner... Ha bisogno di un sostegno invece in questo senso. Noi ci integriamo in modo complementare con la realtà tipica della ricerca accademica, dove la ricerca pura, ovviamente, noi siamo più, come dire, legati a una ricerca applicata. Certo, la ricerca pura è un po' distante. Se ci sentisse il professor Profumo, come dire, ci tirerebbe un po' le orecchie, non vogliamo pensare che la ricerca di per se stesso sia un elemento... Però è un'accessione tecnologica, un processo che può essere cambiato in 90. Vedo che...